Siamo alla ricerca dei rudiri del castello di Moravale, ecco questi, probabilmente sono pezzi di muro e qualche buonanima sembrerebbe che ha segnato almeno qualche sentiero in mezzo a rovi. Ecco l'interno della torre del castello e questo dovrebbe essere un pezzo del muro di la vegetazione dove è arrivata. Guardate quanto sono alte le pareti della cava in questo punto, e qua sono i massi franati. Acquedotto.